Si conclude oggi la seconda tappa del nostro roadshow SAS Platform. Oltre 350 professionisti dell'IT si sono riuniti nelle due tappe di Milano e di Roma. Da questo roadshow mi porta a casa tre cose. La prima è che le tecnologie di artificial intelligence non solo devono essere affidabili, ma anche etiche e produttive. La seconda è che per uscire dalla sperimentazione ed andare in produzione occorre la collaborazione delle linee di business, dei data scientist e dell'IT. La terza è che non bisogna mai smettere di essere curiosi. La nostra community si incontrerà nuovamente a SAS Forum il 4 giugno a Milano.